via giambattista grassi siamo davanti alla car village ma non dobbiamo vendere macchine andiamo a vedere cosa succede in questa proprietà che abbandonata da anni che da anni segnaliamo guardiamo qua un bel bombolone e city report andiamo avanti con paolo rusconi però ce l'hai 300 euro? ce l'hai 300 euro? si potrei avere dammi io vai faccio scusa vai te la mia cazzate scusa io vai faccio 300 euro perché non ho 300 euro? però io non piace questo perché questo allora non lo devi stare qui 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 dai so